All'indomani dell'ennesimo raid vandalico e danni della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zendue di Palermo cominciano i lavori per correre ai ripari e sistemare i danni causati dai vandali. Il vice sindaco Fabio Giambrone si è recato nell'istituto dove ha incontrato la dirigente scolastica a cui ha ribadito la solidarietà dell'amministrazione comunale, del sindaco e dell'assessore alla scuola. Nel corso dell'incontro si è discusso degli interventi urgenti necessari per la riparazione dei danni. Eventuali ulteriori interventi di manutenzione saranno realizzati nell'ambito dell'accordo quadro per le manutenzioni scolastiche e l'affidamento a ditte già individuate dall'amministrazione. Intanto nelle scorse ore davanti al plesso scolastico sono stati trovati due sacchi neri con all'interno il gonfiabile rubato nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Sugli atti vandalici è rintervenuto anche l'assessore regionale all'istruzione alla formazione professionale Roberto Lagalla che ha portato la solidarietà del presidente musumeci e del governo regionale dichiarando che ogni tipo di attacco all'istituzione scolastica, soprattutto nelle aree a maggiore rischio costituisce un gesto di disprezzo verso la comunità e di gratuita aviltà nei confronti dei bambini e dei giovani. Mi preme rivolgere un appello alla città di Palermo affinché ogni impresa, ogni operatore, ogni cittadino se vorrà e nell'ambito delle proprie possibilità possa iscriversi ad una gara di solidarietà verso questa scuola supportandola attraverso la fornitura di giocattoli, la cura del verde e la messa in opera di piccoli impianti di sicurezza ha proseguito la galla. Da parte sua il governo regionale, avendo già individuato la scuola dello Zen 2 tra quelle facenti parte della sperimentazione promossa insieme al MIUR trasferirà all'istituto scolastico già dalle prossime settimane le risorse necessarie per le concordate attività di potenziamento didattico di riqualificazione dei luoghi.